Il Paradiso, spoiler dal 5 al 6 aprile, Adelaide a partire, Matilde delusa da Conti. Continua a essere inarrestabile il successo della soap opera Il Paradiso delle Signore, che va in onda da lunedì al venerdì su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse il 5 e il 6 aprile 2023 annunciano che la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo, Vanessa Gravina, sarà in procinto di affrontare un viaggio. Matilde Frigerio, Chiara Baschetti, invece, non la prenderà affatto bene quando scoprirà che Vittorio Conti, Alessandro Tersigni, ha accettato di collaborare con l'azienda di Ezio Colombo, Massimo Poggio. Gli spoiler del 138esimo episodio della fiction pomeridiana, in programmazione mercoledì 5 aprile. Rivelano che Ezio e la compagna Veronica, Valentina Bartolo, di comune accordo preferiranno non far sapere a Gemma che Marco, Moise Curia, e Stefania, Gras Colombo, non stanno più insieme. Intanto Vito, Elia tedesco, non mollerà la presa e sarà deciso a tornare tra le braccia di Maria, Chiara Russo. Dopo averla delusa profondamente, il contabile Lamantia deciderà di rivolgere le dovute scuse a Francesco, Cristiano e Roberto, con la speranza di riuscire a farsi perdonare dalla ricamatrice Puglisi. Nel contempo Irene, Francesca del Fa, dopo la proposta di nozze di Alfredo, Gabriele Anagni lo inviterà a cenare con la sua famiglia. Matilde rimarrà delusa da Vittorio quando verrà a conoscenza della collaborazione inaspettata con Ezio. Gemma scoprirà che la relazione tra Stefania e Marco è finita. Nella 139esima puntata che invece occuperà il palinsesto di Rai 1 giovedì 6 aprile, Adelaide riceverà una terribile notizia. Nel contempo la situazione per Vito sarà sempre più difficile perché, per il momento, Maria non vorrà saperne di fare pace. A proposito di quest'ultima, Francesco vorrà dichiararle il suo amore. Successivamente Umberto, Roberto Farnesi, vorrà vendere il Paradiso Market a Vittorio. Ma quest'ultimo dovrà dargli una risposta il più presto possibile. Nel contempo Ezio scoprirà la ragione per cui Marco e Stefania si sono detti addio. Adelaide sarà decisa a lasciare la città in compagnia di Marcello, Pietro Mosotti. Ma prima di andarsene dalla villa Guarnieri la contessa verrà invitata dal maggiordomo a partire in solitaria. Grazie a tutti.